carissimi amici e amiche bentornati a questo ciclo di catechesi dedicato ai nuovissimi siamo a una nuova puntata dedicata abbiamo interpreso la volta scorsa il cammino che ci porta alla conoscenza maggiore del mistero del purgatorio questa è la tredicesima puntata e della seconda parte dedicata appunto al mistero del purgatorio la volta scorsa lo abbiamo introdotto come sempre cercando di andare a vedere anzitutto la saga scrittura quelle testimonianze abbiamo visto fondamentalmente indirette non troppo chiare ed esplicite abbiamo visto anche come questo ha fatto storcere il naso a qualcuno che ha contestato l'esistenza del purgatorio e abbiamo anche visto le testimonianze patristiche in particolare ci siamo soffermati sui testi di San Gregor Romagno di San Agostino di San Cipriano e vedendo poi qualcosa di quanto scritto da San Tommaso d'Aquino nel commento dalle sentenze il cammino prosegue necessariamente per un passaggio magisteriale quindi dal magistero classico antico quindi dei grandi concili e medievali arrivando poi al catechismo della chiesa cattolica passando per quelle asserzioni del concilio Vaticano II sul tema presenti in due numeri della luma in gentium quindi direi di non prolungare troppo l'introduzione in modo tale che possiamo andare a sviscerare questi passaggi cruciati a partire dal magistero antico che vedremo sempre un po' più diretto ed esplicito primo brano il concilio di Lyon del 1254 primo primo concilio di Lyon non il secondo e qui troviamo proprio una bella sezione non indifferente due numeri abbastanza articolati sulla sorte dei defunti per chi è in grado è capace o possiede il densinger sono numeri 838 e 839 comunque si tratta del concilio di Lyon primo ecco presieduto da innocenzo quarto e va bene diamo a leggere i testi nell'evangelo infine la verità afferma che se qualcuno avrà detto una bestemmia contro lo spirito santo non gli sarà perdonato né in questo secolo né nel secolo futuro da ciò è dato di capire che alcune colpe sono sciolte nel secolo presente altre invece nel secolo futuro l'apostolo dice che l'opera di ciascuno quale che sia sarà provata con il fuoco e colui la cui opera sarà bruciata subirà la punizione tuttavia questi sarà salvato però come attraverso il fuoco anche gli stessi greci secondo quel che si dice conformemente a verità e senza dubbio alcuno credono e affermano che le anime di coloro che hanno ricevuto la penitenza ma non l'hanno adempiuta oppure coloro che muoiono senza peccato mortale ma con peccati veniali di poco conto sono purificati dopo la morte e possono essere aiutati con le preghiere e di suffraggio della chiesa noi poiché dicono che il luogo di tale purificazione non è stato loro indicato con un nome preciso e peculiare dai loro dottori vogliamo che quello appunto che noi chiamiamo secondo le tradizioni e le autorità dei santi padri purgatorio d'ora in avanti sia chiamato con questo nome presso di loro con quel fuoco transitorio infatti certamente sono purificati i peccati non tuttavia quelli delittuosi o mortali che non sono stati rimessi prima mediante la penitenza ma quelli piccoli e di poco conto i quali dopo la morte opprimono ancora anche se sono stati sciolti durante la vita se qualcuno poi senza la penitenza muore in peccato mortale costui senza alcun dubbio sarà tormentato per sempre dalle fiamme della gene eterna e vedremo poi questo lo riprenderemo quando arriveremo al paradiso che è l'ultimo paragrafo così concludiamo in bellezza le anime poi dei fanciulli piccoli dopo il lavacolo del battesimo e quelle degli adulti che sono morti nella carità le quali non sono trattenute né dal peccato né al fine di una qualche soddisfazione a motivo di esso volano direttamente alla patria eterna vedete com'è chiarissimo questo articolo io sinceramente rispetto chi la pensa diversamente ma le affermazioni del Magistero Classico sinceramente le prediligo perché sono di una chiarezza penso che chi ha ascoltato e adesso dirò qualche parola di evidenziazione come sempre di sottolineatura niente di nuovo rispetto a quello che si dice penso che abbia già capito abbastanza perché la formulazione è chiara troviamo anzitutto vedete proprio il Magistero qui in questo testo il Magistero allo Stato puro i testi che abbiamo visto la volta scorsa tutti praticamente quindi Matteo 12.32 e Primo Corinzi e Primo Corinzi 13.15 le bionisti la volta scorsa basta ascoltare la puntata precedente sono oggetto di interpretazione autentica perché sono passi oscuri nel senso non è che affermano direttamente esiste il purgatorio uno dice che il peccato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né nel secolo presente né nel secolo futuro e poi ci sono quell'affermazione misteriosa di San Paolo di quest'opera che si prova col fuoco e che sarà bruciata e subirà la punizione ma questi comunque sarà salvato ma come attraverso il fuoco quindi sono espressioni difficili e ci hanno bisogno di un'interpretazione autentica chi la dà l'interpretazione autentica? La dà la Chiesa e la dà la Chiesa soprattutto in occasione delle definizioni dogmatiche la cui sede propria è quella dei concili oltre che dei documenti provenienti direttamente dall'autorità e dal Magistero del Sommo Contefice quindi nella prima parte interpreta autenticamente guardate che questa cosa qui non è altro che il fondamento biblico dell'esistenza di quello che noi latini chiamiamo il purgatorio e da questo momento in poi anche i greci devono chiamare così sapete che i due concili di Lione sono stati costituiti proprio per cercare di trovare una composizione tra la Chiesa Latina e la Chiesa Greca quindi riprendo però alcuni passaggi i greci non lo chiamano purgatorio ma credono chi ci va secondo i greci in purgatorio che quelli che hanno ricevuto la penitenza ma non l'hanno adempiuta oppure coloro che muoiono senza peccato mortale ma con peccati veniali di poco conto sono purificati dopo la morte cioè a che serve il purgatorio è commesso dei peccati mortali dice hanno ricevuto la penitenza non l'hanno adempiuta io negli anni passati ho raccontato qualcuna delle penitenze che si davano qualche secolo fa meglio non rifarlo che dopo uno si mette paura però dei peccati mortali amici cari penitenza bisogna farla perché sono stati contratti dei reati di pena consistenti nei confronti di nostro Signore delle macchie consistenti dei danni non li evita riparare in noi e fuori di noi e questo si fa con la penitenza non la vuoi fare te la fai in purgatorio figlio mi pare di aver detto già nella puntata precedente in purgatorio si soffre di più e si merita zero mentre se fai un po' di penitenza in questo mondo certo soffri un pochino ma soffri di meno che in purgatorio e tra l'altro le penitenze che fai non sono solo espiatorie ma sono anche meritorie cioè prendi due piccioni come si dice con una fava sola espire colpe commesse ma dal momento che quella penitenza è volontaria acquisti anche dei meriti per grazia ulteriore in questa terra e per gloria ulteriore in cielo e questo vale anche ecco perché la vita cristiana dovrebbe essere una vita fondamentalmente penitenziale tutta la predicazione classica insieme a grandi predicatori medievali tipo un San Domenico o un San Francesco chiamavano a penitenza dice ma io faccio tanti peccati veniali e di poco conto ma Gesù nel Vangelo dice pure una parola inutile sarà chiesto conto agli uomini al giorno del giudizio per cui ringrazia Dio se il Signore ti preserva dai peccati gravi ma non si entra in paradiso nemmeno con la più piccola imperfezione involontaria non corretta riparata ed espiata quindi figuriamoci e quindi chi muore senza peccato mortale ma con peccati veniali o di poco conto oppure chi ha commesso peccati mortali ma ha ricevuto la penitenza e non l'ha impiuta siccome oggi le penitenze che si danno sono spese e volentieri poco più che simboliche o addirittura proprio simboliche tu cura e punta e basta ebbene che in quel caso supplisca il penitente io vorrei spezzare una lancia cioè non è tanto semplice di questi tempi perché quando c'è una certa plassi ecclesiale e soprattutto quando poi si confessano persone che sono estranee che non si conoscono tu non sai chi c'è davanti cioè quindi non sai che tipo come dire di penitenza puoi dare alla persona se è in grado di adempierla se fosse una penitenza significativa se magari poi non prende in odio come diceva Sant'Alfonso la confessione diceva Arda questo è penitenza che mi ha dato ma adesso non mi confesso più questo ma non mi confesso proprio più quindi oggi è tutto quanto complicato anche perché c'è un contesto completamente scristianizzato potrebbero essersi potrebbero da una penitenza un po' impegnativa ma non troppo cosa è arrivata a me poi si corre il rischio di vedersi chiamato da qualcuno più alto di lui perché il penitente ha fatto una denuncia scritta oppure orale perché è alta quel confessore che penitenza che mi ha dato oggi vi assicuro amici cari che è difficile quindi è vero che esistono confessori a volte un po' sbrigativi e e di manica larga diciamo così è vero che anche quelli che non sono tali oggi purtroppo devono essere un po' prudenti specialmente ripeto dinanzi a penitenti estranei perché possono succedere dei guai uno non deve avere paura certamente dei guai no però capite che poi in questa materia si 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 complicano parecchio le cose perché potreste non può parlare di quanto è avvenuto in confessione nemmeno per difendersi quindi diventa molto molto diventa molto complicato vabbè comunque la cosa importante è che dobbiamo parlare di questo adesso che comprendiamo che il fuoco del purgatorio attenzione il fuoco del purgatorio purifica i peccati ma non non quelli delittuosi e mortali che non sono stati rimessi prima mediante la penitenza cioè i peccati delittuosi e mortali non vengono rimessi dal purgatorio ma anzi come afferma chiaramente dice se qualcuno senza la penitenza muore in peccato mortale costui senza alcun dubbio sarà attormentato per sempre dalle fiamme della genna eterna pensiamo queste affermazioni questa è la chiesa che sta parlando qui sta parlando qualcun altro però questo per farci anche capire un po' nei tempi che un po' particolari che stiamo vivendo abbiamo mai sentito in giro un linguaggio di questo genere salvorare eccezioni oggi eppure questo è un concilio della chiesa uno di 21 concili della chiesa perché bisogna sempre ricordare che i concili della chiesa sono stati 21 non uno 21 ecco e tutti dogmatici questa è una definizione dogmatica non è certamente un dogma sancito in maniera solenne con tanto di corollario di anatemasit però è una definizione cioè di fede non possiamo prendersela e scrollarcela di dosso ecco andiamo a vedere un altro testo questa volta di un pontefice cioè la lettera di Papa Clemente VI a Mekitar che era il cattolicos degli armeni vedete qui ci sono sempre schermaglie oppure corrispondenze sui cristiani dell'Oriente perché si sono molto molto cauti sul purgatorio si dicono se c'è qualche peccato perché non si è fatto penitenza bisognerà fare un po' però ecco non hanno sempre non avevano almeno allora sempre una visione così chiara e definita scrive il Papa a questo cattolicos degli armeni noi chiediamo se tu hai creduto e credi che esiste il purgatorio nel quale discendono le anime di coloro che sono morti in grazia e che non hanno ancora compiuto la soddisfazione dei loro peccati con una completa penitenza e così pure se creduto e credi che queste sono tormentate dal fuoco per un certo tempo e che una volta purificate anche prima del giorno del giudizio pervengono alla vera ed eterna beatitudine che consiste nella visione faccia a faccia di Dio e nell'amore vedete anche qui due brevissime affermazioni ma di una chiarezza straordinaria ci credi che esiste il purgatorio sta dicendo a questo e chi ci va le anime che sono morte in grazia si chiamano le anime sante del purgatorio ma che non hanno ancora compiuto vedete qui non soltanto la soddisfazione completa dei loro peccati la soddisfazione altro termine tecnico fondamentale il latino è per completam penitentiam de suis quenundum per completam penitentiam de suis satisfacerunt peccatis dobbiamo soddisfare delle colpe commesse la divina giustizia non bisogna avere paura di dirlo c'è la colpa quindi l'offesa a Dio che viene rimessa con la confessione ripeto e poi c'è il reato della pena come la chiama santo Ammaso da Quino c'è la soddisfazione della divina giustizia che va fatta va fatta Gesù Cristo è morto in croce anche se per come spiega benissimo Sant'Anselmo da Osta per dare al Padre una soddisfazione perfettissima di tutti i peccati di tutto quanto il genere umano dal primo all'ultimo uomo anzitutto della gravità inaudita del peccato originale ma anche di tutti gli altri peccati la partecipazione a questo travaglio di Cristo ce l'abbiamo anche noi nella penitenza perché ribadisco probabilmente l'ho già detto forse nella puntata precedente dice ma come mai se Gesù ha sofferto così tanto perché devo soffrire pure io cioè una volta che chiedo perdono basta no perché devo fare penitenza devi fare penitenza perché è giusto perché il nostro Signore il bonus integrale quindi la remissione della colpa e della pena lo dà una volta sola come Cristo è morto una volta sola in croce così una sola un solo azzeramento totale ci abbiamo che è il giorno del nostro battesimo gli altri sono azzeramenti dei debiti contratti con Dio in quanto lo abbiamo offeso con il peccato ma non quelli contratti con la divina giustizia cioè le pene che ci siamo meritati compiendo quel certo peccato la confessione rimette parte della pena la soddisfazione sacramentale imposta dal sacerdote rimette un'altra parte di questa pena il resto ci dobbiamo pensare noi poi bisogna credere fermamente che queste anime sono tormentate dal fuoco quindi il purgatorio tanti anni fa feci una catechese sono ancora online che si chiamava il purgatorio non è una sala d'aspetto qualcuno deve pensare diceva vabbè un purgatorio aspettiamo un po' di vedere il nostro signore ma tutto sommato non è poi così male non è proprio così gli anime del purgatorio sono sante certamente gli anime del purgatorio sono consapevoli di essere salvate quindi non c'è la disperazione nel purgatorio ma la sofferenza ce n'è tanta nel purgatorio tanta tanta amici ok terzo testo il concilio di Firenze anche questo concilio come dire di tentativo di riconciliazione con i greci e ci fu anche questa bolla di Denturcelli che rappresentò una riconciliazione che purtroppo poi però non produsse tutti quanti gli auspicati e i già contenuti ecco frutti di perfetta comunione che si sarebbero auspicati al 1304 del Denzinger anche qui c'è un paragrafetto dedicato alla sorte dei defunti dove si legge inoltre definiamo attenzione attenzione a quando si usano questi questi termini definiamo che le anime dei veri penitenti dei veri penitenti morti nell'amore di Dio prima di aver soddisfatto con degni frutti di penitenza ciò che hanno commesso o omesso sono purificati dopo la morte con le pene del purgatorio che riceveranno un sollievo da queste pene mediante il suffragio dei fedeli viventi come il sacrificio della messa le preghiere le elemosine e le altre pratiche di pietà che i fedeli sono soliti offrire per gli altri fedeli secondo le disposizioni della chiesa quindi comprendiamo no amici qui di nuovo il linguaggio ancora chiaro ci dà qualche altra ulteriore sfaccettatura e sfumatura anzitutto è bellissima questa questa affermazione i veri penitenti quindi candidati al purgatorio quindi al paradiso sono i veri penitenti ribadisco bisogna essere penitenti per salvarci cioè penitemini che è la variante latina del convertitevi metanoete in greco shuvu in ebraico se uno vuole proprio fare un pochino di di versioni bibliche diciamo così sono i penitenti morti nell'amore di Dio morti amando Dio e accogliendo il suo amore evidentemente ma che non hanno fatto in tempo a finire il proprio percorso di purificazione con degni frutti di penitenza ciò che hanno attenzione commesso o omesso interessantissimo quanti peccati di omissione che facciamo molte volte senza neanche dargli il giusto peso rendercene conto e poi qui c'è l'aspetto dei suffragi in cui amici se posso permettere vi raccomando di abbondare sacrificio della messa che è il più grande le preghiere per i defunti il rosario soprattutto l'eterno riposo oggi abbiamo dopo Anna Maria Tarigi la corona dei cento requiem e poi le lemosine le lemosine le lemosine quindi fare delle lemosine delle beneficenze che possono essere applicate a modo di suffragio non so quanti di noi ce l'hanno chiaro cioè io non so regalo 200 euro a un povero a una onlus che cura l'adozione dei bambini non lo so oppure le do alla parrocchia oppure le do per opere di apostolato di evangelizzazione alle missioni io posso dire guarda che questi 200 euro io li do però vadano a suffragio dell'anima di mio padre lo posso dire questo qui perché l'elemosina e la carità scrive San Pietro coprono una moltitudine di peccati attenzione ma anche quello che noi facciamo in vita adesso se uno ha voglia di farsi poco purgatorio si faccia pochi sanno questo qui le messe di espiazione anche per i peccati nostri qualcuno dice mi posso far dire un pochino di messe prima che muoio dipende quali tu puoi chiedere che ti siano celebrate per te messe di espiazione questa è una penitenza che per esempio è sempre molto raccomandabile darla come spesso in occasione delle confessioni generali questa diciamo non è molto controindicata perché l'unica cosa che costa al fedele è il sacrificio che deve fare in questo caso proprio lo deve fare quindi dell'elemosina con cui accompagnerà l'offerta con cui fa celebrare le messe e anche qui poi se vorrà il penidente sarà illuminato dallo spirito santo magari sarà generoso per lasciare l'offerta per queste messe di espiazione no quindi si possono partire anche per noi quando siamo morti perché il sacrificio della messa quindi far celebrare una messa per un defunto è fondamentalmente una messa di espiazione cioè perché la conseguenza di quella messa sarà una riduzione del tempo o della entità delle pene che o di tutte e due che l'anima furgante sta vivendo in quel momento c'era un tempo delle anime sante che dicevano sempre sta attento che se non sei generoso nel suffragare i defunti quando sarai morto la giustizia di Dio ti lascerà senza suffragi come dice Gesù nel Vangelo non uscirai da quel carcere fino a quando non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo quindi mi raccomando se mi posso permettere una piccola esortazione siamo solleciti nelle opere che suffragano i nostri defunti anche il glorioso concilio di Trento ha parlato in due punti del purgatorio primo nel decreto sulla giustificazione il famoso decreto sulla giustificazione che è il cavallo di battaglia della reazione antiluterana no? e nel 1580 qui sono il decreto della giustificazione ha una parte certamente descrittiva ma dopodiché termina in ben non ricordo quanti erano 33 canoni 33 canoni vuol dire che questo è quello che ti ho detto dopodiché andiamo a vedere chi dice il contrario o chi non professa questa dottrina ha natema sit quindi c'è proprio l'espressione si è scomunicato quindi vuol dire è fuori della comunione con la chiesa attenzione che questi anatema sit erano veri nel 1500 ma sono veri anche adesso quando c'è l'anatema sit chiunque osa andare contro l'affermazione blindata con l'anatema sit eretico e può e deve essere definito eretico allora 1580 se qualcuno afferma che a qualsiasi peccatore pentito dopo che ha ricevuto la grazia della giustificazione viene rimessa la colpa è cancellato il debito della pena eterna in modo da dare che non gli rimana alcun debito di pena temporale da scontare o in questa vita o in quella futura in purgatorio prima che gli siano aperte le porte dei cieli sia natema la grazia della giustificazione è fondamentalmente per un battezzato il perdono dei peccati cioè il momento in cui come si dice oggi nella parabola del figlio al prodigo abbiamo anche messo come canto di introduzione a questa catechesi perché ha seguito la diretta appunto il figlio al prodigo cioè io ritorno in me stesso torno da mio padre chiedo perdono e lui mi accoglie a braccia spalancate questo non dobbiamo mai dimenticarlo ma bene quindi è finito tutto andiamo in paradiso se moriamo no no ci vuole la penitenza perché altrimenti ci sarà un debito è rimesso il debito della pena eterna certamente ma la pena temporale la sconterai o in questa vita o in quella futura impurgatoria voi sapete che i luterani su questo erano assolutamente allergici perché per lutero non serve compiere nessuna buona opera la giustificazione viene da Cristo quindi l'opera è buona non servono termini come soddisfazione come giustizia divina o come scontare la pena qui c'è proprio questa espressione sono assolutamente fumo negli occhi per i protestanti e il fatto che siano diventati fumo per gli occhi anche in certi ambienti cattolici ci fa capire come in diversi ambienti cattolici si siano protestantizzati purtroppo ma le dottrine di matrice protestante sono eretiche non possono essere da noi abbracciate in nessun modo ecco il concilio di Trento ha parlato del purgatorio anche in un decreto piccolo decretino sul purgatorio breve perché è soltanto un numero un canone però abbastanza intenso poiché la chiesa cattolica è istruita leggo dallo spirito santo in conformità alle sagre scritture all'antica tradizione nei sagri concili più di recente in questo concilio ecumenico ha insegnato che il purgatorio esiste e che le anime vi trattenute possono essere aiutate dai suffragi dei fedeli e soprattutto col santo sacrificio dell'altare il santo sinodo prescrive ai vescovi di vigilare con zelo perché la sana dottrina sul purgatorio trasmessa dai santi padri e dai sagri concili sia creduta conservata insegnata e predicata ovunque ecco qui indirettamente il concilio ricorda i compiti dei vescovi i vescovi hanno il compito di predicare la sana dottrina della chiesa e di vigilare che questo sia fatto vescovo significa episcopos in greco significa uno che controlla la sentinella ed è isto non la sentinella quella che sta a vedere se qualcuno arrivava la sentinella che vigila sul suo greggio perché nessuno lo vada a rapire ma anche quello che controlla è quello che fanno cioè un vescovo deve controllare che i suoi sacerdoti predichino in maniera conforme alla sana dottrina questo deve controllare sia creduta conservata insegnata e predicata ovunque questa sana dottrina ora abbiamo detto prima che c'erano due numeri della lumen gentium che trattano di questo aspetto il numero 49 di lumen gentium afferma che il purgatorio esiste cito proprio i passaggi del testo fino a che dunque il signore non verrà nella sua gloria accompagnato da tutti i suoi angeli distrutta la morte non gli saranno sottomesse tutte le cose alcuni dei suoi discepoli sono pellegrini sulla terra altri compiuta questa vita si purificano ancora altri infine godano della gloria contemplando chiaramente dio unettrino qual è invece il passaggio altri compiuti questa vita si purificano ancora evidente che è un passaggio che allude al purgatorio ne parla anche il numero 50 vedete come quando si parla del purgatorio automaticamente si parla anche dei suffragi e nel numero 50 infatti il numero 50 parla dei suffragi per i defunti la chiesa di coloro che camminano sulla terra riconoscendo benissimo questa comunione di tutto il corpo mistico di Gesù Cristo fin dai primi tempi della religione cristiana coltivò con grande pietà la memoria dei defunti e poiché santo e salutare è il pensiero di pregare per i defunti perché siano assolti dei peccati ha offerto per loro anche suffragi quindi mi raccomando suffragi per i defunti infine abbiamo il catechismo della chiesa cattolica che parla del purgatorio nei numeri 1030 e 1032 e dà le seguenti affermazioni 1030 quello sull'esistenza del purgatorio coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio ma sono imperfettamente purificati sebbene siano certi della loro salvezza eterna vengono però sottoposti dopo la morte ad una purificazione al fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella gioia del cielo quindi c'è una purificazione post mortem necessaria per chi non sia sufficientemente purificato per entrare nella gioia del cielo dove si può entrare solo se si è rivestiti di perfetta santità numero 1031 la chiesa chiama purgatorio questa purificazione finale degli eletti che è tutt'altra cosa dal castigo dei dannati la chiesa ha formulato la dottrina della fede relativa al purgatorio soprattutto nei concili di Firenze e di Trento che abbiamo da poco letto la tradizione della chiesa rifacendosi a certi passi della scrittura parla di un fuoco purificatore vedete come il linguaggio è sempre un po' più soft ecco si deve parlare anche di questo fuoco purificatore perché non se ne può non parlare ma la chiesa la tradizione della chiesa rifacendo da certi passi parla di un fuoco purificatore importante che comunque se ne parli in maniera esplicita se ne parla infine il valore di suffragio e delle indulgenze questo insegnamento però già anche sulla pratica della preghiera per i defunti di cui la sagra scrittura già parla perciò Giuda Maccabeo fece offrire il sacrificio espiratorio per i morti perché fossero assolti dal peccato fin dai primi tempi la chiesa onorata la memoria dei defunti è offerto per loro suffragi in particolare ancora una volta il sacrificio caristico affinché purificati possano aggiungere alla visione di figa di Dio la chiesa raccomanda anche le lemosine le indulgenze e le opere di penitenza a favore dei defunti qui compaiono per esempio le indulgenze le indulgenze lucrabili anche per i defunti e le opere di penitenza sapevi che tu puoi fare anche un digiuno per un'anima di un defunto credo che nella puntata precedente è uscito che c'è stata un'anima santa la Beata il Vigie Carboni che si era messa a fare penitenza per un uomo del tutto peculiare e a forza di penitenze offerte ha fatto uscire dal purgatore quindi perché le penitenze chiaramente per il principio della comunione dei santi qui capite che qui dopo lo lo rivedremo qui opera la verità di fede che si chiama la comunione dei santi per il quale noi possiamo scambiarci le opere meritorie o meglio alcuni aspetti delle opere cioè il valore satisfatorio e impetratorio delle opere buone da noi compiure e questo possiamo farlo anche anzi è cosa lodevolissimo farlo per le anime di coloro che si stanno purificando dopo la morte prima di chiudere qualche ulteriore considerazione sul purgatorio perché poi vorrei riservare il discorso sulle indulgenze e i suffragi alla prossima puntata così lo possiamo approfondire bene e poi fare una bella riflessione conclusiva e sistematica sul purgatorio quindi lasciare un pochino questa puntata dedicata un po' al magistero autentico della chiesa e a quello che ai punti fermi sobri ed essenziali che ci lascia ora di nuovo il catechismo della chiesa cattolica ancora afferma quanto segue che è bello e importante il peccato ha una duplice conseguenza il peccato grave ci priva della comunione con Dio e perciò ci rende incapaci di conseguire la vita eterna la cui privazione è chiamata pena eterna del peccato ma d'altra parte ogni peccato anche veniale provoca un attaccamento mal sano alle creature che ha bisogno di purificazione sia qua giù sia dopo la morte e nello stato chiamato purgatorio tale purificazione libera dalla cosiddetta pena temporale del peccato queste due pene non devono essere concepite come una specie di vendetta che Dio infligge dall'esterno bensì come derivanti dalla natura stessa del peccato questa è una cosa molto importante questa è una cosa molto importante una conversione che procede da una fervente carità può arrivare alla totale purificazione del peccatore così che non sussista più alcuna pena anche questo è molto importante anche se dobbiamo essere cauti nell'applicarla a noi stessi allora le pene dovute per il peccato non sono una vendetta cioè vabbè hai fatto questo ti perdono però te la devo far pagare in qualche modo no no dice il testo del catechismo sono derivanti dalla natura stessa del peccato cioè il peccato questo l'ho detto fino alla nausea sono anni che lo dico in combinazione produce dei danni oggettivi a te e intorno a te quei danni oggettivi quel male fatto e prodotto bisogna ripararlo la remissione dell'offesa fatta a Dio non tocca il male creato dal peccato che tu hai fatto male fatto in te e intorno a te è qui che si situa il discorso della purificazione il male che si innesca è il male che si scatena e più il peccato è grave e più il male che si innesca e che si scatena è grande attenzione all'altro aspetto l'amore di carità può bruciare completamente le pene dovute per il peccato questo lo scrive anche Sant'Omaso e questo quando si ha quella particolare forma di penitenza molto dolorosa ma anche molto liberante che è il piangere ma proprio piangere sui propri peccati è il piangere una cosa ancora più importante sulle sofferenze che Gesù ha dovuto affrontare per lavarci dai nostri peccati e di spiare lui le nostre colpe quando si ha un fervore di carità di questo genere Sant'Alfonso Maria dell'Iguone ne aggiunge un'altra l'accettazione serena della morte quindi l'offerta a Dio del sacrificio per l'antonomasia che è quello della nostra vita accettare di morire come Dio vuole quando Dio vuole allora che Dio vuole nel modo che Dio vuole e se possibile partecipare attivamente alla nostra morte e renderla proprio un atto un sacrificio offerto a Dio dicendogli proprio Signore tu mi hai dato la vita tu me la stai chiedendo abbi pietà di me perché ti porto una vita sicuramente imperfettissima ma te la offro volentieri e questo qualunque cosa accada è stata Giovanna Beretta Molla certamente quando ha offerto la vita per far nascere l'ultima figlia ha offerto la vita con gioia ma chi ci pensa agli altri figli ci pensa mio marito e chi per lui perché se il nostro Signore mi chiama all'altro mondo questo non è più un problema mio ancora il catechismo il perdono del peccato e la restaurazione della comunione con Dio comportano la remissione delle pene eterne del peccato quindi rimangono tuttavia le pene temporali c'è una pena eterna ci sono le pene temporali il Signore deve il cristiano deve sforzarsi sopportando pazientemente le sofferenze le prove di ogni genere è venuto il giorno affrontando serenemente la morte di accettare come una grazia queste pene temporali del peccato tutto quello che ci fa soffrire se uno non è capace e dovrebbe imparare però offrire le penitenze volontarie almeno cerca di santificarti offrendo con amore le sofferenze che il Signore ti manda perché non ce n'è nemmeno una di esse che non sia finalizzata anche alla purificazione dei tuoi peccati stai sicuro di questo qui senza nessun dubbio deve impegnarsi quindi il fedele attraverso le opere di misericordia e di carità come pure mediante la preghiera e le varie pratiche di penitenza spogliarsi completamente dell'uomo vecchio e rivestire l'uomo nuovo vedete come nel catechismo della Chiesa Cattolica curato non per niente da San Giovanni Paolo II ecco diciamo anche come stanno le cose anche se i termini sono un pochino meno diretti meno come dire meno meno apodittici meno forti ma la sostanza della dottrina cattolica è custodita è custodita e quello che diceva San Giovanni Paolo II quando c'è qualche dubbio di fede aprite il catechismo si può dire anche adesso perché la sostanza del dogma cattolico è custodita qui questa seconda parte deve impegnarsi attraverso le opere di misericordia e di carità come pure mediante la preghiera e le varie pratiche di penitenza spogliarsi completamente dell'uomo vecchio rivestire l'uomo nuovo qui c'è un eco chiaramente di San Paolo tutta quanta la teologia battesimale che lui faceva questa è un'esortazione seria bastare sul fatto e questo rimettiamocelo bene in testo lo ribadisco ancora che il perdono del peccato e la restaurazione della comunione con Dio comporta la remissione della sola pena eterna cioè tu non andrai all'inferno ma non delle pene temporali del peccato queste considerazioni dovrebbero essere un deterrente così andiamo verso la conclusione anche per chi continua a commettere peccati su peccati specialmente quelli grossi io raccomanderei di fare qualche salutare pensiero a questo perché non c'è stato soltanto l'inferno a parte il fatto che quando c'è una recidiva nel peccato mortale l'ho detto tante volte si corre il serio pericolo di fare una montagna di confessioni sacrileghe perché la Chiesa insegna che se tu hai rinunciato al peccato devi rinunciare al peccato come si dice nella formula di rinnovazione delle promesse battesimali rinuncia a Satana a tutte le sue opere quali sono le opere di Satana? sono i peccati devi rinunciare rinuncio se tu rinunci veramente e poi fuggi le occasioni e preghi tu nel peccato non ci ricali nel peccato mortale è chiaro che se non c'è questa rinuncia cioè che ti piace troppo quello che deriva dal peccato e tu non vuoi rinunciarci non ci rinuncerai ma state attento però perché oltre che a metterti a repentaglio l'anima questa cosa produce anche una fabbrica di male impressionante se noi potessi ma perché il mondo di oggi va così è così storto va così a rotolo perché si fanno talmente tanti di quei peccati che c'è una montagna di letame che è sempre in atto di essere alimentato nel mondo tenete presente anche che adesso i prati sono diminuiti ci sono le concelebrazioni che fanno diminuire il numero di messe celebrate e quindi cioè perché tutto questo ammasso di male che si produce in continuazione deve avere come dire un punto di argine un qualcosa che lo che lo fermi e queste sono la messa e gli altri sacramenti purché siano celebrati bene come Dio comanda e frequentati con questo spirito da parte dei fedeli vedete come qui si accenna anche all'affronto sereno della morte che è una dimozione fondamentale della vita cristiana e alle pratiche le varie pratiche di penitenza varie qui chi vuole fare penitenza io dico sempre non andare subito a cercare il confessore che ti dice devi fare questo 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 questa cioè approfondisci vedi discerni davanti al Signore dopodiché offri anche tanto se il Signore non lo vuole ti metterà in grado di o te lo farà capire che quella cosa non la vuole no? ecco certamente su questo tema quindi un prudente consiglio di un sacerdote che possibilmente conosca anche la persona è certamente raccomandabile prima di intraprendere percorsi che potrebbero potrebbero magari essere eccessivi o controproducenti o non possiamo fare certe cose perché la salute non ci assiste non ce lo consente quindi in questi casi è certamente cosa prudente ricorrere al servizio al consiglio di una persona saggia bene possiamo fermarci qui la prossima volta vedremo insieme i suffraggi e ulteriori deflessioni sistematiche conclusive spero sul purgatore una santa notte di benedica e la madonna sempre a tutti vi protegga grazie a tutti grazie a tutti